Sono a 50 kill in questo momento Record Ovviamente ironico, continuerò sempre a dirla tranquilli Oggi proveremo a fare un Guinness World Record di Fortnite Ovvero il record più alto di kill di sempre Ovviamente è ironico Sappiamo benissimo che il record di kill l'ha fatto Ninja Non siamo minimamente in grado di fare il suo stesso record Ma neanche vicini E' semplicemente una cosa ironica con i nostri iscritti Per vedere il numero di kill più alto che si sia mai visto Quindi è totalmente ironico, non l'ha mai dato vinciato o cosa del genere No è giusto per divertirci Come funziona Abbiamo chiesto a tutti i nostri iscritti e a tutti i consolini Di andare a Parco Pacifico nel campo da calcio E di farsi ammazzare Per di più di prendere qualche arma Possibilmente munizioni e così via E di portarmela Perché capite bene che per ammazzare 90 persone Finiscono anche i colpi Quindi diciamo che servirà anche un ottimo lavoro di squadra Per farsi autoammazzare E' una cosa un po' strana Cioè ti devono portare i proiettili per farci uccidere Un po' macabro Io mi sa che inizia ad andare lì in mezzo Allora io sto prendendo le armi che trovo per ora Secondo me tra di loro si rianimeranno Ed è un problema perché vuol dire più colpi da usare da parte mia Ok vado? Vuoi iniziare? Vai Sì però devono stare fermi Così faccio gli headshot E non spreco colpi Ok Ma Nat Ok Hai appena ucciso un nostro moderatore di Discord Steph Se non si fa Ok Non si fa No dai Mi ha confuso ballando Enrico Oh stanno tirando granate in pulso E qua ballano via tutti Porca miseria Ok vado a cercarti Perché ti sei mostro in quel momento Grazie per i colpi del pompa Ma mi servirebbe anche il pompa stesso Dimmi Io volevo Volevo andare in giro a prenderti cose Ma mi sa che hanno spazzolato Non devi rianimare Maledetto Non rianimatevi tra di voi Che se ne è un casino Lo so che siete gentili tra di voi Che lavorate di squadra Però poi devo sprecare molti più colpi E che l'assassino qua sei tu oggi Lo so No 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 Niente colpi di piccone No divertente piccone No divertente piccone Allora Allora Steph In fucile a pompa dei colpi da darti Però non so come darteli Perché se li butto qua Ok Capisci che li prende qualcun altro Sì Lo so Che poi ancora io La cosa bellissima è che non ho kill Perché sono ancora tutti a terra Sì Sì E quindi questa cosa è fantastica Non ho ancora mai ammazzato un team per intero Uè 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 Riesci a darmi i colpi Non mi da picconate Dammi i colpi veloci Aspetta aspetta Steph Mi stavo tenendo No cavolo sei Pensavo fossi questa No Veloce che c'è niente che spada Dai Tieni Tieni Colpi Bravissima sì Presi ok Mi sono tenuto un fucile a pompa di scorta Perché qualcuno mi ha preso a picconate Però voglio capire se ho sbagliato Ora si ragiona Io ballo Ora si ragiona Ok Si balla Si balla Ok Grazie Ok ho preso un sacco di roba L'ha rubato Perfetto 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 Uno mi ha vado a tutto Sono ancora Che ti avrei portato Ma me l'hanno rubato Ok Come sta andando Aggiornami Perché io quando ci sta capinando Allora 8 kill Ma un sacco ovviamente di gente a terra Devi avvisarmi Se vedi qualcuno che sta rianimando altri In modo tale Ok Da poterli fanno alkillare Ed evitare di sprecare i materiali Jug jug Prenditelo Non si sa mai se ti fanno del male Grazie 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 Guarda colpi ti ha portato Bravi Bravissimi Sto tornando alla grande So che magari non è bello Farsi ammazzare da Steph E fare un video così Però secondo me La riuscita Poi da vedere Dopo questo video Faremo delle cose divertentissime Esatto Quindi abbiamo chiesto comunque questa cosa Giusto perché è la prima sfida Che facciamo oggi Ma poi guarda Sono tutti bravi Si fanno pure ammazzare da te Ma pensa a te Sono talmente fedeli Da farsi uccidere Una a una Ok Aspetta Aspetta Io 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 Ho sentito qualcuno sparare Spero che siano gente pacifica State fermi Ok Ok Perfetto Ma poveri Ve lo fa ridere Lo so Lo so Ascolta Steph Sì Ho preso una mitraietta silenziata Con 30 colpi Quindi 30 Sono comunque Ok che non fa troppo danno Però sono comunque Guarda io ho un sacco di colpi del pompa Che è davvero ottimo State fermi State fermi Fermo 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 Ok Scusami Lo capisco Perché si mettono di fronte a te 21 kill Non saltare Brutto saltare Brutto saltare Poi ti misso Allora aspetta che si fermino di fronte a te Vedi Alcuni lo fanno Alcuni continuano a muoversi Posso final killare quelli che sono in 4 Porca miseria Così mi prendo un po' di kill Ma se vuoi li prendo a picconate Solo che ho paura che poi mi attacchino Steph Allora Perché magari hanno paura che io sia Qualcuno che voglia uccidere tutti No Niente builds Fermo 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 Ok Ok Luttiamo 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 Bravo Allora c'è Ah ok Sniper foxy Che ha ucciso qualcuno Però poi ha perso i sensi dopo una caduta Quindi va bene lo stesso Non so Magari gli è partito un colpo per sbaglio Ci può stare Ok Please No rianimate Questo stai rianimando Ok Questo qui in ginocchio Eh non lo vedo Non rianimare Guarda a me Guarda a me Ok Ti distraggono se mi vedono Steph Credo di averlo giustiziato No era quello Quello col fucile a pompa Si era lui Che sta Vabbè ma giustamente Stava rianimando Porca miseria 27 kill Quello sta cercando di scappare Aspetta amico Ok Ok Wewewewe Calmino Infatti ho sparato a rafica Perché ho visto che ti stava piccolando Eh ma molti lo fanno Perché non riesco a finire i team Cioè sono tutti a terra Perché siamo tanti Steph E poi ricordati Che potrebbe succedere Che qualcuno sia andato da qualche altra parte Comunque stanno finendo i team Eh ho visto un botto di persone morire Sì sono a 32 Fammi prendere ok C'è gente che non vuole morire E corre in giro Mi stanno facendo impazzire letteralmente Eh sai com'è Allora Noi su Discord abbiamo scritto Una spiegazione lunga Quanto un lenzuolo Perché giustamente Per spiegare questa modalità Che volevamo fare Ci vuole un pochettino Quindi è probabile Che magari qualcuno N'ha fatto la metà Steph Oh è finito un altro team 35 kill Siamo già vicini I record assoluti di sempre Record farlocchi Steph Ricordalo Già Allora questo è come Hai presente quando fai un bel sogno Che sogni che tutto ti va bene Questa è la tua immaginazione Steph Perché in realtà non è reale Non scappare Wewewewe Mi sta spara Ok Questo mi ha dato armi Ok che le tengo per te Questo è buono Mi stava sparando Questo voleva arrestare alto Questo qua è un furfante Oh Lo sapevo che lui contava Lo sapevo 38 kill 38 kill Steph Mi hanno dato anche una cosa interessante Una balestra Speravo un RPG Eh ma So che la balestra ha colpi infiniti Lo so Quindi è Se proprio rimani a secco E comunque io ho un po' di armi E un po' di colpi Perché li danno anche a me Quindi poi ti posso dare Ok 39 Davvero ti ho mancato Stai fermo Poi perché vi bevete gli shield Fermo Fermo Fermi sta sparando Aspetta Aspetta Serve aiuto Questo va a fare nel kill atto Un attimo va Che questo non aveva capito Una ceppa Non aveva capito Ok prendi gli colpi Ok Vabbè magari non aveva Cioè ma se poi stai uccidendo solo tu Capisci È abbastanza ovvio Questo davanti a te che ti daba Steph Per farsi uccidere Ok Eh ma come sempre Bevo uno shield Vabbè Vabbè Almeno è più Steph Ti stanno dando un botto di colpi Prima che li prendi Ma gli lutano altri ogni volta Vieni 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 Ok 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 Ma ti aveva dato un botto di colpi Ehm Riesci a continuare a lottare tu roba? Ci provo Ci provo ma non è semplice Ok 36 colpi 43 kill Wow Ok un'altra terra Ok un'altra terra Fermo Bravo Almeno tu Vedi Ogni tanto qualcuno che deve stare Fermo 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 Lo capisce Sono a 50 kill in questo momento Eh vabbè Record Ovviamente ironico Continuerò sempre a dirlo tranquilli Questo vedi Ah ah Allora se uno è in match personalizzato State fermi Ed è scarso E vuole far finta di aver fatto un sacco di kill Può fare sta roba no? Sì Però sai Si nota eh No ma che dici È facilmente notabile Stai giocando benissimo Grazie Ma sei un fenomeno Ma oggi sono in forma Sei un fenomeno Sì Io sono concentratissimo Più del solito Perché ho paura che prima o poi qualcuno non rispetti le regole E quindi sono super concentrato Che cerco di ammazzarne il più possibile Allora la fortuna è che Parco Pacifico sta dentro la zona Quindi non ci dobbiamo muovere Il problema è che siamo ancora in 29 Quindi mi sta venendo il dubbio che ci sia qualcuno fuori dalla zona Spero che se siete fuori comunque Stiate raggiungendo Parco Pacifico Poco mi ha concordato Allora È ok Sono a un botto di munizioni Quindi sotto quel punto di vista inizia a essere bello che tranquillo Non mi fate Lo so che non volete morire Lo capisco E vabbè vi lascio in pace Quelli che builano Vi lascio in pace Però dai tanto dopo di questo facciamo un game super divertente Esatto Questo era giusto per fare una fesseria tutti assieme Adesso è caccia E comunque c'è da dire Tornano a cacciarli ormai C'è da dire Rispettano le regole No non guillare Ti prego Vabbè è anche giusto Che ti mettono un po' di difficoltà Ho capito Ma sai quanto è difficile ormai Non capisco più nulla Allora io raccolto altri colpi del fucile a pompa Anche io non sto capendo più nulla Sto dicendo parole a valvera Quindi ti sto seguendo Che appena è te li posso dare Ok ne ho giustizzato uno che scappava via correndo Poi Ok questo sta con noi Questo non sta con noi Vampa fucile Ce la fai a mirare in grazia di Dio Lo so che da lontano fai schifo come arma Però c'è un limite Ok C'è un sacco di gente a terra Sono a 60 Eh vabbè 60 kg Comunque sinceramente 60 kg è più di quanto sperassi Anche io Pensavo che ci saremmo fermati molto prima Ti dico la verità Ti dico la verità Ok Aspetta Aspetta Steph Ci provo eh Sei pronto? Ok doppietta Stai di fronte a me? Ok troppo Troppo impegnato Vai Gli sta dando la testa sto gioco Gli sta dando la testa Non è che mi dà la testa È che cambia tantissimo il record Se è 40 50 60 Quindi sono concentrato Facciamo che il tuo record personale Il record personale di Steph Uh Qual è bello Bello mi piace come definizione Record personale di Steph Sono un attimo armato Dove siete? Sono finiti? Allora una più Stai 57 Ok Ti hanno detto i gradi Steph Hai visto? No Secondo è buono? 62 kg Non capisco se poi mi vuole sparare o no Quindi No no Vabbè io comunque sto vicino a te Che nel caso che succeda qualcosa Ti possiamo difendere Perché non ti scappare con Solini? Perché? Mi hai fatto impazzire così Vabbè tu volevi dire kill semplici Steph qui Non ce li hai Qui non ce li hai Allora comunque sto fanekillando un po' di gente Perché sta arrivando anche la zona Comunque la gente almeno non si sta resando Però Ormai è pieno di cose buildate Gente nascosta in ogni angolino Eh guarda Possibile e immaginabile Anche perché 20 non sono qua Steph Sono belli che Li ho beccati Li avevo beccati Eccoli Eccoli I furfantoni Ce n'erano tipo 4 Nascosti solo qui Ok Ce n'erano 4 6 a 65 kg 20 ancora vivi Ok 19 Ok Giustiziamone un pochettino Non ho visto nessuno eliminare altra gente comunque Quindi Quelli che mancano Sono giuste persone che non sono qui No guarda Ho visto qualcuno cadere Che magari ha costruito una piattaforma Gliel'hanno distrutta Ed è caduto Si è auto ucciso così Ok Però sinceramente anch'io Non ho notato Nessuno che ci desse qualcun altro Gli altri penso che non abbiano ben capito Se si siano uccisi da altre parti Semplicemente Steph Anche se poi Si sono uccisi da altre parti Ma non si sono uccisi Quindi è molto strano Molto ambiguo Consolino smettila Steph Qui c'è qualcuno C'è qualcuno vicino a me Che non è del nostro team Quindi lo potresti uccidere Per essere una caccia di un tipo Che continua a correre e scappare E non si vuole far uccidere E non si vuole far uccidere Dov'era quello? Eh lì Lo vedi Questa Mi hai parlato un colpo Dai si è accorto che di tu Ed è rimasto bene A un certo punto mi hai parato tu un colpo Sappilo Ah si? Si Ah bene Scusa Ok ne ho visto un altro che correva 68 kill Dai che andiamo almeno a 70 70 Dai che andiamo almeno a 70 Perché poi sto usando il pompa verde Invece di quello blu Sto panicando C'è uno qui dentro Da qualche parte nascosto? Si? Si Lo sapevo Hai preso l'auto Non te ne vai Non te ne vai vivo stavolta Alleluia Questo è un furfante Che scappava da due ore Povero Ok Vedo qualcuno lì Eh ti ho visto L'hai visto che si stava nascondendo? Appena mi ha visto L'ha iniziato a nascondere la testa Guarda Guarda Mi vuole tenere la testa No Mi ha sbalzato tantissimo Un grande Quale ne ha? Ne è un voto Ok ce l'ha fatta Ah Troppo simpatico Ok Si Ci sta L'altro che ho acceso prima Doveva essere un fan di Gabbo Cioè aveva il nome come suo 70 kill Tonde 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 Chiude la zona Ci dovremmo spostare Steph Dai sono rimasti fermi Comunque io Io sono felice del risultato No è incredibile È incredibile Cioè riusciamo Da dove hai sbucato? Riusciamo sempre a fare cose fighissime Sono molto molto felice Consolimi Uscite che arriva la zona Non voglio farvi morire di zona È ancora peggio Qualcuno sta buildando lì ad esempio Si Guarda Guarda Steph Ne ho visto uno Dov'è? Qui di fronte a sud est Se vieni qua Sto scappando molto? Eh sì Stava correndo tra le montagne Io non ho armi mirate da lontano Perché ho pensato solo Io la palestra Steph Se vuoi quella No no grazie Ho pensato solo agli irli Allora non so se vuole venire a uccidermi Lo vedo molto Cattivo Ok Calmo Aspetta Ok Non mi sta uccidendo Devi far uccidere da Steph Però non devi scappare Ucciso Se è un 3 contro 3 Ce la dobbiamo giocare bene No In questo momento mi stanno guardando 63 persone Ma che erzi Giuro Bellissimo Vabbè giustamente Che dice andiamo a caccia? Sì Sì Mi sa che finiamo così Ah però siamo dentro la zona noi Aspettiamo che arrivi no? Penso di sì Dai sì Magari te l'ho detto Non vogliono No no fidati Eh ma magari qualcuno non ti ha riconosciuto È per quello che ha sparato Poi magari non stava sparando a te Non lo so No 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 Mi hanno preso in piena e mi hanno tolto 75 di shield Allora vediamo un pochettino Ah 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 Il discorso è che io ne ho visto due Ah ecco ne uno Ok Ok è sceso dalla montagna quindi per la zona Sì 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 stanno giocando seri Ok Ok allora sono di fronte a noi Cioè ti aiuto solo in caso di grave necessità Steph Sì Non voglio non voglio stare a fare capito a rovinare tutto Sì giocano seri Ok uno giù Ok io non ti ho aiutato eh Lo so L'altro è nascosto Te l'ho detto solo nel caso in cui magari ti stendono Allora intervengo io Però solo in quel caso Ok Quasi è andato Ok è andato Ne manca uno Manca uno E dove sarà questa zona? È minuscola Non lo so Penso sia nascosto da qualche parte Sì 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 No ma adesso esce fuori per forza Guarda quanto è tutta Beh considera che questi due morti Siamo comunque 80 Che è la cosa che mi interessa mai di più Vabbè Va benissimo Va benissimo L'ho visto Steph L'ho visto L'ho visto Allora qui sotto dietro un albero Lo vedi? Dentro quell'albero Era ben nascosto Ok ci sei? Eh più o meno Gli ho rotto un po' di Mi sta a spara a me Steph eh Sta a spara a me Ok Ok Mi tiro una benda Io gli ho solo rotto il muro Per agevolarti Però non l'ho sparato Non voglio rischiare di morire Capisci? Lo so Ciao 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 Addio Ok Quante kill hai fatto? 80 tonde 80 tonde 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 80 kill Tra divertente Aspetta Io adesso mando la foto a Gonx Che non sa che dobbiamo fare questo video E gli fai guarda quante kill ho fatto Vedi questo per trollare gli amici è geniale Guarda Ora vediamo Io non scrivo neanche nulla Io non scrivo neanche nulla Anche perché all'Io non lo possiamo dire perché lui lo sapeva Esatto Esatto Non ci cascherebbe Ma Gonx secondo me ci casca Comunque Siete fenomenali Grazie Consolini Cioè Chiedervi una cosa del genere Sapevamo che era difficilissima L'avete rispettata Siete fantastici E vi amiamo davvero tantissimo Grazie mille E adesso ovviamente Tutto di fila Game super divertenti Esatto Per compensare questa richiesta Quindi preparatevi per dei game fantastici